Aaaaaaah! Dalla collaborazione con il Centro di Danze Caraibiche Swingy Sabor e il grande maestro e coreografo Michael Fons, nasce il progetto Swingy Sabor Fons Production. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Buona visione! Scopriamo insieme di cosa si tratta. Buona visione! Abbiamo qui con noi Michael Fons che ha appena terminato uno dei suoi stage. Buonasera Michael, come stai? Buonasera, bene bene. Com'è cominciata la tua collaborazione con la Svinghi Sabor? È una storia lunghissima, mi sa che non ci basta il tempo per raccontarli. Da quanto collabori? Saranno tre anni, tre barra quattro. Ci parli un po' di questo progetto tra Svinghi Sabor e Fons Production? Allora questo è un progetto che stiamo portando già da un po' di tempo. Stiamo sviluppando insieme a questi ragazzi che vengono a fare la lezione con noi qua di domenica. Abbiamo un appuntamento al mese con una domenica al mese e io vengo e faccio un po' di afro, un po' di rumba, un po' di salsa per creare un po' di repertorio per queste settimane qua che facciamo di lezione con le persone che già frequentano i miei corsi che facciamo qui a Svinghi Sabor e poi quelli che vengono da altre scuole di Bari. Facciamo uno spettacolo per finire il sabato con tutte queste discipline che studiamo, l'afro, la rumba, son, chacha, un po' di new style. Noi sappiamo che tu qui a Bari hai raggruppato dei ragazzi, dei ballerini, due gruppi abbastanza conosciuti che sono i Fons Children e gli Afro Fons, giusto? Fons Company, ho dato questo nome perché come sempre mi trovo in difficoltà ogni volta che facciamo una esibizione e c'è subito qualcuno che viene a prendere il nome dello spettacolo, sia dello spettacolo che del gruppo e allora lo spettacolo, l'ultimo che abbiamo fatto, ho dato in maniera molto veloce questo nome che secondo me rende l'idea perché i ragazzi sono proprio fanatici dell'afro e non mi è venuto in mente un altro nome per loro. Quindi Afro Fons Company perché loro proprio hanno la malattia dell'afro e la rumba e quindi anche se facciamo tante altre cose e faremo tante altre cose in futuro però fondamentalmente la base è quella, l'afro. E quindi poi i children che non sono tanto children, adesso sono un po' più grandi e stanno già crescendo però sono quelli più piccoli che poi si vedono anche in tutti gli altri gruppi, in tutti gli altri proietti che abbiamo fatto e con loro anche facendo lo stesso lavoro. Magari è un po' più moderno, è un po' più, diciamo, in copia e l'altro gruppo invece sono solo maschi, facciamo solo radici. Magari è un po' più grande Le tue soddisfazioni più grandi? Le mie soddisfazioni più grandi a parte di, diciamo, a parte mio figlio che balla tutti i giorni in casa e sono questi ragazzi che mi seguono in tutta l'Italia, diciamo che di tutta l'Italia questi sono quelli che io sono riuscito a tenerli, a mantenerli sempre lo stesso gruppo compatto, forte e dinamico. Una delle altre soddisfazioni sono un gruppo di quadrivari che oggi, come oggi, stanno spopolando in giro per i congressi, soprattutto in Spagna. Loro si chiamano Full Project. In passato, all'inizio, quando ho cominciato, la connessione che c'è stata con questa scuola è stata attraverso loro perché uno di loro lavora per questa scuola, si chiama Gigi Bianco. Adesso loro che hanno fatto la loro strada e che stanno lavorando tantissimo e che continuano a portare quello che è il mio oscilio insieme a quello che è stato, quello di Alberto che mi ha preceduto. Questi ragazzi io sto cercando di fare la stessa cosa perché possano domani riuscire a fare la stessa cosa che hanno fatto i Full Project. Quindi noi a settembre ti ritroviamo qui al Svinghi Sabor? Se ancora ci saranno loro e Giacomo non chiuderà la tenda, io sono qui. Possiamo invitare tutti gli amici a casa quindi a venirti a trovare qui a settembre, no? Quelli che non fanno parte di nessuna setta possono venire qua perché io o noi siamo aperti a qualsiasi tipo di mentalità con rispetto al ballo. Quindi noi per ballare, divertirci insieme, apriamo le porte dei Swinghi Sabor per qualsiasi ballador, rumbero o salsero che sia. Grazie Michael! Grazie! Con Coni Casa oggi c'è Pratica. In apparenza è un'elegante sedia, ma all'occorrenza sa trasformarsi in un solido asse da stiro. Pratica è custode dei tuoi spazi. La chiudi e torna ad essere una sedia. Pratica non occupa spazio, lo crea. Per acquistare Pratica chiama allo 080 453 0136 con Coni Casa in via San Michele a Casa Massima. Per acquistare Pratica. Che lo supermango scenario bailando una rumba e una No te lo voglionouri dell'uomo Però tiene cadenza in superpazza M αναponenta più cala Che gamba sta un'occolata Super! Abbiamo qui con noi una delle collaboratrici storiche della Swing Isabor, Cinzia buonasera Ciao buonasera Vorrei che ci raccontassi un po' da quanti anni esiste la Swing Isabor e come nasce Allora, io lavoro per lo Swing Isabor da otto anni, sinceramente gestisco con mio fratello la scuola Anche perché sotto l'auto pratico lui proprio, vedi, non appare neanche per una piccola intervista Nasce dalla... guarda, inizialmente è giusto da una collaborazione con altri soci e ballerini Poi siamo rimasti solamente noi e da sei anni gestiamo da soli la scuola Oltre ai corsi caraibici, che sappiamo è un centro di danze caraibiche, che altri corsi avete? Beh, noi facciamo diciamo di tutto, facciamo l'hip hop per i bambini, per i ragazzi più grandi, i balli di gruppo Abbiamo la signora più grande che ha 89 anni, facciamo l'iscio, facciamo danza del ventre, danza classica, moderna, contemporanea Diciamo che siamo quasi completi come scuola Ho sentito prima parlare sul palco di una nuova disciplina Il Dembo, sinceramente l'ho testato anche io stasera, è molto energica come disciplina A settembre la proporremo e vediamo un po' come risponde, diciamo, la clientela di Bari Cinzia, parlaci un po' della preparazione a questo saggio finale La preparazione dello spettacolo o dei saggi? Tutte e due Allora, diciamo, il saggio in teatro l'abbiamo organizzato in dieci giorni Considerando che poi la settimana scorsa avevamo Michael, perché siete già venuti a scuola Quindi è stato un caos totale I ragazzi si stanno preparando dall'inizio di giugno Abbiamo fatto la preparazione in un mese per i corsi E questo è stato il risultato Tutti bravi Per quanto riguarda invece la collaborazione col maestro Michael Fons È una collaborazione bella, perché lui, diciamo, negli anni è diventato, oltre ad essere il maestro che tutti conoscete, anche un grande amico È bello lavorare con lui, perché insegna tanto, trasmette tanto ai maestri, ai corsisti e la crescita della scuola si vede Progetti per quest'estate o vi fermate ripartiti a settembre? Beh, noi di solito non ci fermiamo mai, per il momento non abbiamo nulla in programma Se poi viene il lavoro noi non lo rifiutiamo sinceramente, ce l'auguriamo Invitiamo quindi tutti gli amici a casa a venirvi a trovare, a venirsi a informare Sì, dall'8 settembre saremo aperti per una settimana con le lezioni gratuite fino al 15 e dal 16 in poi ripartiamo con le lezioni Grazie Cinzia Grazie a te 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 Grazie a te